Parte oggi al Rapisardi un progetto di alternanza scuola-lavoro. Di cosa si tratta? È un progetto che è organizzato ogni anno dall'Istituto, che ha la finalità di collegare il mondo della scuola con le attività produttive. Infatti vengono coinvolte molte aziende, gli ordini professionali come i commercialisti, i consulenti del lavoro, i amministratori di condominio. E' assicurazione anche degli istituti bancari. I ragazzi parteciperanno per una settimana presso queste aziende, faranno un'esperienza lavorativa concreta, verranno seguiti sia da un tutor dell'azienda che li accoglie, sia da un tutor scolastico. Alla fine dell'esperienza i ragazzi poi dovranno relazionare e un po' mettere in evidenza quello che si è stato di positivo, le criticità e quello che poi la scuola può realizzare in termini di programmazione, in modo tale da incrementare questo collegamento tra il mondo della scuola e il lavoro. E quanti allunni coinvolti e di quali classi? Le classi coinvolti sono le quinte, anche perché sono quelli che ormai si affacciano al mondo del lavoro oppure continueranno gli studi. Diciamo che quasi tutti i ragazzi sono coinvolti, più di cento ragazzi vengono coinvolte. Tante volte il limite è dovuto alla disponibilità che noi incontriamo nel territorio e non sembra magari riusciamo al 100% a far accogliere questi ragazzi, però diciamo quasi il 90% sicuramente partecipano a questa esperienza lavorativa. Può nascere un'opportunità lavorativa? Questo sicuramente è quello che noi ci auspichiamo, perché si fanno conoscenze, anche le realtà produttive o gli uffici o gli studi di consulenza possono apprezzare le capacità di tanti ragazzi e quindi possono poi magari successivamente realizzare un rapporto di lavoro, speriamo continuativo. In ogni caso è un'esperienza da spendere poi come curriculum personale successivamente nel caso si facciano delle domande o si presenta un curriculum personale in varie aziende.